ciao a tutti da iota e bentornati sul canale vediamo se riesco a girare la camera bentornati vediamo se riesco a fare qualcosa tipo saltare ok ce l'abbiamo fatta allora il nostro problema adesso è l'orso che in questo momento non dovrebbe esserci vediamo no ormai vive qua dentro l'orso nel nostro giardino come ci hanno detto nei commenti guardalo che si avvicina è l'unica cosa che posso fare è combatterlo da qua vediamo un po se riusciamo a fare qualcosa per uccidere sarebbe bello anche ucciderlo da qua ma le zampate ce le dà lo stesso forse ma fa un bagno sono saltato in aria non gli faccio niente no non gli faccio niente ma ma ha distrutto un colpo ma ma sdrenato selvaggina cotta aiuto siamo morti signori non c'è più via di scampo vediamo un po anche lanciargli le robe non dobbiamo aprire una finestra dobbiamo aprire una finestra vediamo dobbiamo rompere un po ecco qua già è un po meglio ecco siamo morti no rinasci il rage quit lì c'è la tomba per fare la strada adesso entrare sarà un dilemma perché non abbiamo assolutamente nulla guardano guardano che è lì che ormai vive lì quell'orso basta allora la tecnica non è male e dobbiamo aggirarlo però se no ci c'è ormai che lui ci ha ucciso lui è contento capisci è contento di averci ucciso e se riesco a entrare senza farmi vedere qui aperto chiuso non fa differenza prendiamo lascia non ce la fa prendere dove che siamo morti qua ok perché non ci prende le robe perché non raccoglie allora ma c'è l'impostazione solo con shift che raccoglie ma chi gliel'ha detta ma scusate impostazioni raccoglie oggetti sempre ok allora dobbiamo uccidere quell'orso dov'è andata adesso dov'è oppure tiriamo su di tre questo qua che ce l'abbiamo ok possiamo fare anche questa missione ovvero aumentare a 3 il bordo se lui entra non esce più già lo so io anche perché attorno a noi non è tutto tre ma già qua ci serve un gradino vabbè intanto fortifichiamo poi vediamo secondo me non so se funzioni eh ci sono se ne sta andando e adesso siamo a 3 però non so non lo vedo più boh beh intanto lui non passa qui però anzi se ormai dormiamo aspettiamo possiamo fare così si ok guarda come scende la fame o meh sta fa morire di fame questo ok è un altro giorno per vedere un attimo allora facciamo così noi qui abbiamo bisogno ce l'abbiamo delle scale no proviamo questo quindi possiamo fare benissimo così e fare così e così allora l'orso dopo che ci ha ucciso è scomparso vediamo perché io non sono sicuro se ne è andato ci ha ammazzato e se ne è scappato eh si è contento non mi ricordo il tasto per zoomare c'era un tasto per zoomare boh nessun comando esistente ah questo è per il waypoint si perché avevo una macro per per fare il waypoint in automatico però non funziona più la mod deve essere aggiornata ok allora questa finestra non mi sembra male malaccio però la chiudiamo allora vediamo un po' e intanto dobbiamo mangiare mettiamo questo qua dentro allora visto che abbiamo tutto andiamo a vedere le nostre colture come stanno senza farci beccare dall'orso stanno crescendo ok perfetto ma come stanno ad acqua? 100 199 100 100 100 cos'è? soia ok perfetto perfetto ci siamo allora fammi un po' vedere cosa dobbiamo fare perché il carbone ha finito? ah è impossibile che ancora sta cioè sono passati 6 giorni ancora in fumo vabbè e carbone non ne abbiamo? perché volevo incominciare a fare un lingotto io non ne abbiamo dobbiamo fare una fucina o fucina no non è questa lingotto di rame come si chiama? come si chiama? come si chiama? fornace 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 se non so scrivere signori fornace forgia forgia questa qua si fa con la pietra così ok perfetto facciamo una forgia una forgia eccola qua e la posiamo perfetto qui ci andiamo a riscaldare i nostri belli lingotti e dove la mettiamo? io la metterei tipo qua non mi non mi bella mi piace dici che la pioggia la la spegne? boh uno due tre quattro lingotti dunque quattro lingotti sono quattrocento di queste pepite però non abbiamo il carbonchio cioè il carbonchio è in fase di di crescita dobbiamo fare un'urna facciamo un'urna anche così teniamo dove l'argilla argilla blu no non questo questo ok urna ok diciamo così con l'alto così non si muove la camera e si muove solo il mouse dunque dunque dovremmo incominciare a conservare il cibo più a lungo f questo ecco f copiamo l'ho fatto un'urna vero spero di si sembra gigante cacca e dai c'ha ragione ok facciamo questo 1 2 3 4 5 6 7 ok facciamo andiamo di 2 no è così f togliamo questo andiamo col trittico ok ottimo che è successo ho finito l'argilla meno male che è un'altra stack allora chiudiamo questo f posizioniamoci meglio ok fatto era proprio l'ultimo pezzo aspetta vediamo un attimo si ce li abbiamo bastoncini qui ci abbiamo l'argilla refrattaria le ossa questo qua cos'è cassiterite abbiamo poca roba signori poca roba ok allora bastoncini ce li abbiamo qua 4 andiamo a prendere dovremmo avere noi questa no permesso 4 4 e una torcia questa si è spenta che non l'ho cambiata queste le togliamo ok torce eccola qua mi sembra strano che quella che sta succedendo costruisci ancora ne vuole altro non lo so forse si è bugato non lo so sembra strano ancora ne voleva 8 ok 1 2 3 mettiamo anche una qua fuori perfetto allora bastoncini non possiamo più riscaldare nulla perché non abbiamo eh sì ci manca ci manca il carbonchio qua andiamo a togliere questa roba qua perché sta crescendo a bestia questa erba e poi ci servirà sempre utile allora vediamo un attimo qui stanno crescendo le nostre belle colture l'accetta ce l'abbiamo non dovrebbero esserci qua questo cos'è una zappa rame rame tiriamo giù un po' di bastoncini ottimo posso farlo anche a mano se è meglio se non distruggo il coltello non distruggo bello un seme così lo piantiamo non distruggo una bella scorpacciata di rametti che ci sta ok una volta fatto questo dobbiamo trovare il carbone signore quello lì mi sembra strano che non sia finito io quasi quasi lo apro e vediamo se ha fatto il carbone cioè il problema è che se non l'ha fatto mi tocca rifare di nuovo la legna eccetera eccetera però è l'unico modo per andare avanti anche perché prossimamente vorrei costruire una casa definitiva incominciare a fare qualcosa di più carino che quella struttura lì vediamo un po' ecco ci sono pure i lupi c'è di tutto qui questo è vuoto però questo c'è ok così lo mangiamo qui non c'è niente niente non c'è selvaggiria c'è un posto praticamente scarsissimo questo qua chiudiamo vedi è impossibile che lì sia ancora è da un bel po' che sta facendo c'è mi sembra un po' strano sono indeciso apriamo apriamo a me sembra che stia andando oh magari si è spento ecco ho preso fuoco tutto l'abbiamo riacceso perché forse si è spento boh non lo so forse il porting dall'1.17 all'1.18 ha rotto qualcosa non ne ho la più palidea lo riaccendiamo adesso fa fumo ne fa tanto vediamo un attimo cosa succede nel frattempo che lui sta riprendendo a fare tutta sta cosa la staccionata fammi vedere i nostri maiali come stanno dovrebbe essere qua dovrebbe essere una staccionata con i maiali eccoli qua stanno belli dormendo livello 1 scrofa 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 cinghia c'è solo un cinghiale ok non ci abbiamo un secco non ci abbiamo niente ok allora per proteggerci dagli orsi togliamo un po' di terra così l'orso non potrà più salire ho rotto la pala se n'è andato comunque ed è esponato cioè o se n'è scappato non lo so mi ha ammazzato e se n'è scappato andiamo di qua come siamo messi eh vabbè ah qua c'è pezzi di stagno qua c'è lo stagno ma c'è un sacco di robe vicino casa praticamente ah allora una testa di pala si 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 una testa di pala di selce due deve bella quando rompi c'è l'erba alta e ti dia anche l'erba secca invece non lo fa ok adesso non dovrebbe più rompere le scatole l'orso abbiamo fatto proprio il guado prendiamo questa torba che male non fa e il problema è la torba che non brucia oltre mille queste due pure ok aspettiamo il tutto e dovremmo esserci così abbiamo un'estetica migliore una visuale migliore ottimo ah le nostre zucche stanno crescendo hanno fatto i fiori zucca in fiore quindi vedranno le zucche non lo so non ne ho la più pallida idea allora abbiamo la torba e la posizioniamo tutta qua no facciamo così ottimo eccola qua bella catasta di torba e dentro casa che male non fa dunque dunque vediamo un attimo se abbiamo segnato da qualche parte qua è rame 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 pesi di stagno rame rame nativo siamo andati veramente lontano ma non abbiamo trovato il carbone commerciante artigiano e siamo andati fino a qua sotto addirittura e la madonna altare abbiamo fatto di strada però quindi da qua se noi andassimo a nord di qua vediamo cosa incontriamo allora prima di fare questo lungo viaggio volevo posare queste che non servono problema della torba fammi capire la torba brucia 900 gradi il legno 700 e per fare il carbone c'è quello e dobbiamo aspettare dobbiamo aspettare ne farei un'altra di fosse di carbone però aspettiamo andiamo verso di là prepariamoci da mangiare prima va ovvero ce l'abbiamo ok rifocigliamoci e partiamo all'avventura andiamo verso nord vediamo cosa c'è chiudiamo tutto sono sono tardi sono le 16 e 34 non so se ce la facciamo ma avviamoci non credo che troveremo mai il carbone soprattutto senza piccone però è solo un'esplorazione questa qua è cresciuto tutto l'anno giusto vero dove siamo noi a questo qua rip si può eliminare ma dove siamo noi scusa ah no sta andando da parte opposta andando di qua e vai magari troviamo qualche seme qualcosa che non abbiamo visto in precedenza ci sarebbe ottimo questo è il rame invece poca roba c'è il foglio una gallina rame si è messa a piovere il carbone si lo si trova anche setacciando poco giudo un puma cos'era via 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 facciamo così facciamo un po' di parkour madonna mia che spavento è diventato un posto selvaggio questo non c'era niente è diventato un posto iper selvaggio che cacchio sono sti suoni mi sto cacando sotto eh vabbè allora così non va bene facciamo un po' di zag così non ci attacca vediamo se se ne vado alcuni acqua andiamo in acqua c'è dappertutto ci sono lupi ma che è dove siamo arrivati noi ci siamo qua il problema è che si è fatto tardi vediamo se riusciamo uno due no ci facciamo due e tre e tre e ci facciamo un sacco a pelo non si sa mai dormiremo all'aperto questo oggi alla ghiaccio ma secondo me ne vale la pena perché andiamo a esplorare un nuovo posto un nuovo chunk con la 1.18 vediamo cosa ci carica pensavo fosse invece no è argilla refrattaria questa qua è buona argilla refrattaria questa è argilla blu invece vero? sì ok ci siamo quasi naturalmente di semi e cibi zero la capra che vola però è un bel posto qua bello pianeggiante però non c'è tanta roba che ore sono? sono le sette se dormiamo adesso poi ci svegliamo troppo presto però siccome ancora c'è luce io direi di andare ancora la ma scoperta proprio niente e qua c'è un bosco quindi potremmo quindi potremmo incontrare le api o i lupi è più plausibile che incontriamo i lupi ah un po' di acquisetto ce lo prendiamo sento appena adesso una gallina morire quanto siamo? quanto ne serviva per fare? non me lo ricordo non me lo ricordo non mi ricordo come si faceva e qui seto questo oppure di lino quindi acquisetto 4 e 2 tife 4 3,4,8 4,12 ne prendiamo altri due ok oh cos'è questo? rame nativo qui abbiamo il tronco d'acero che è bellissimo l'acero ma è difficile da rompere ci staremmo una vita adesso adesso ci droppa il seme sarebbe figo e invece ok io direi di mettere il saccappello e dormire ho visto una scritta allora siamo qua più avanti però già sta caricando perché questo shank qua dovrebbe essere nuovo pezzi di stagno questo qua ce lo segniamo stagno facciamo giallo salva c'è il rame e qui seto fermo che forse ho visto qualcosa oh della segale mi ha trovato qualcosa eh sì allora imbediamoci una mano e ci mangiamo questa però non abbiamo trovato i funghi questi qua sono buoni oh quanti funghi vediamo fungo uso il coltello cibo verdura questo 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 non lo possiamo prendere perché siamo pieni zeppi buttiamo via questo verdura sì sono commestibili beh oh vedi così si fa adesso siamo nella cacca perché siamo pieni 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 zeppi vediamo cosa questo lo possiamo mettere nella mano questo lo possiamo mangiare fino a sazietà ok e raccogliere ancora funghi perlomeno ci possiamo fare una bella zuppa di funghi dobbiamo raccogliere quelle drape lì allora mangiamo una e due questa cos'è quindi selce qua ci sono ancora funghi buono è il posto dei funghi qua peccato che non li posso coltivare io i funghi è carino farlo anche perché come fonte di nutrimento sono abbastanza nutrienti fonte di nutrimento come fonte di cibo questi mi sa di no però questo è un altro fungo questi non sono buoni questi non sono buoni qua dentro cosa c'è cosa c'è ma io posso buttare questa che non mi serve oh la la cosa abbiamo trovato farro poi albero questo cos'è lino ma tu no beh lino per forza si deve raccogliere allora buttiamo via queste stack qua che non ci interessano il lino va raccolto signore è molto importante allora fammi vedere vediamo un attimo cosa possiamo buttare questa zappa qua via e buttare questi nuovi la metti ok vedi che caricando il nuovo chunk abbiamo raccolto qualcosa ho mangiato una rapa 2 3 4 bra diciamo che siamo abbastanza pieni possiamo tra questo cos'è lino in crescita via prendiamo riserve e sentiamo i lupi quindi direi che possiamo tornare al nostro accampamento diciamo che come quanto è grande quest'albero il tronco di quercia ci stanno vent'anni per tagliarlo io ho preso l'acero non la quercia guardate lì com'è bello vediamo se riusciamo a vederlo senza farci ammazzare dai lupi adesso bello piace mi piacciono le montagne in quel modo volendo potremmo farci un cestino e portarcelo via questo farro buttiamo questo farro farro più importante i semi e il cibo questo dei ribes questo è il lino è abbastanza ricca questa zona e siamo su andesite rame andiamo se riusciamo no orso via 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 basta orsi per oggi basta orsi via 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 abbiamo dato abbastanza per oggi con gli orsi direi di cambiare e di rottarci verso questa zona qua vediamo se riusciamo a ciancare altri a caricare altri shank questi cosa sono? funghi fungo pataiolo è buono il fungo pataiolo vi fammi vedere sì io volevo fare se riuscivo 4 5 6 allora se riuscivo volevo fare mettiamo giù il letto vediamo se riusciamo a farmi uno zaino cioè una cesta e metterla sulle spalle quanto è profondo profondissimo qua allora dovremmo farcela no? come si faceva il cestino? cesto di canne tre ne vuole continuo io ne servono 8 ne serve ancora dove lo vado a trovare qua ce n'è uno giustamente ho spento tutte le torce poi ce n'è uno un altro dobbiamo perdere però il letto quanto siamo 23 3 uno me ne manca quindi se adesso facciamo aspetta torniamo cos'è questo? lino maturo lino maturo torniamo al letto che doveva essere dovrebbe essere di qua eccolo qua allora io adesso posso fare questo metterlo a terra aprirlo metterci dentro tutta questa roba ok adesso shift eh shift no non me lo fa trasportare? ah perché c'è dentro questo aspetta ok e voilà e adesso ce l'abbiamo in spalla perfetto questo ce lo riprendiamo e adesso possiamo continuare abbiamo l'inventario molto più pulito non abbiamo più torce direi di tornarcene a casina anche se la voglia di prendere una quercia e tanto guardate qua come è profonda adesso l'acqua talmente profonda che non posso più salire ah no da qua buono cosa è la quercia allora io sono tentato c'ho due asce a prendere la quercia perché vorrei dei semi di quercia da piantare vicino casa e invece fuffa forse il miglior metodo è questo e poi non questo è questo sì è un sì ce l'abbiamo no è acero questo a queste acero io volevo la quercia questo acero ecco questo dovrebbe essere quercia quindi quercia buona anche l'acero ma se ce lo dà un seme non è detto proviamo questo non mi serve via non ci ha dato una bene amata chip abbiamo con questo no se ci da un seme niente vero difficile la quercia queste acero queste pino queste acero e dobbiamo tornare cominciamo a tornare perché sono a mezzogiorno nel gioco e non vorrei ritrovarmi a dormire due volte fuori anche perché abbiamo un carico abbastanza importante siamo pieni di un cu giuda no questo è da segnare per forza dove siamo qua cos'è rame nativo salva è tanto con rame allora carbone però non ne abbiamo trovato e questa cosa mi dispiace tanto e sta durando anche un po di del solito un po più del solito il gameplay spero che vi vada bene in questo gameplay durerà un po di più fino a quando non torniamo alla base è stato un po di esplorazione diciamo così nonostante la morte iniziale cos'è sta roba ah cosa c'è qua colture uh fermi fermi tutti c'è una cosa di rameli fermi tutti una bella falce ci ha dato aspetta aspetta uno due bella lì questa gratis mi piace così gratuitamente ci sta queste sono stagno questo lo segniamo stagno dovrei fare una macro ci c'ho la macro però usamo una mod ecco la mod non è stata aggiornata alla 1.18 quindi non mi funziona più purtroppo ahimè capita allora di qua quello cos'è è una capra questo cos'è il quarzo il quarzo per adesso non mi interessa cioè potrei volendo potrei no non c'ho spazio volendo niente non c'ho più spazio dobbiamo passare per sta foresta io ho una paura matta passare per la foresta e passare di qua gaia fangosa qua si può fare un po di cuore con l'andesite un mega orso che notava speriamo che sia lento abbastanza pure il rift qua poi non mi vogliono fare tornare a casa praticamente rape rapa allora io praticamente devo mettere giù la cesta metterci dentro i semi questo no posso mettere altro questi no farei così butterei questo eh no aspetta ok no c'era un altro buttiamo lo so che è un po tedioso però a noi ci serve come il pane avere i semi 1 e 2 andiamo ecco ghiaglia di andesite rame nativo carbone 0 vero? qui c'è il quarzo qui c'è un sacco di carbone no qua pezzi di stagno e rame eh penso fosse carbone allora segniamo stagno più rame quanto siamo lontani ancora? un po' c'è un altro rame ma adesso la nostra priorità è andarcene a casa siamo pieni siamo pieni strano montagna è una pianura verdeggiante senza nulla certo che è un po' staccio eh meno male che ah ma qua c'è un chi è sei tu? cacciatori di tesori si vorrei parlarti cacciatori di tesori quindi questo qui dove siamo noi? qua lo facciamo rosso commerciante di tesori facciamo così e gli diamo la carovana tocchiudi così sei a posto e non ti vengono a disturbare tra l'altro è vicino casa una bella gallina una bella gallina e qua io direi di rifocillarci vedo casa e lontananza ah qua c'è il rame che è vicino casa questo lo segniamo rame selce c'è di tutto qua c'è pure un cucciolo di cane qua ci sono i nostri bei maiali che stanno ci stanno divertendo a questo punto visto che siamo qua io direi di allora intanto piantiamo questo acero tipo tipo qua poi ci mettiamo la cesta qua ci prendiamo semi di rape e le andiamo subito a coltivare poi cos'altro abbiamo segale lino farro di cavolo il cavolo il cavolo attrae tantissimo se non mi ricordo male non so perché i conigli o le lepri di segale tre c'è una bella coltura e poi abbiamo lino facciamo il lino dai ok ah possiamo coltivare un'altra cosa ovvero questo riempiamo a tappo signori perfetto ok abbiamo riempito a tappo veramente quindi questo ce lo prendiamo e ce lo portiamo a casa ok il nostro bottino se ci fa entrare grazie è tornato a casina allora abbiamo il cibo che va messo qui e subito lo mettiamo poi lo dovremmo spostare ok adesso lo cuciniamo subito questo ce lo prendiamo la bella carne perché ho messo questo volevo prendere la pentola e ho messo il barattolo va bene la pentola qua allora vediamo questo possiamo cucinare abbiamo anche i funghi quindi potremmo fare riso con i funghi allora 1,3,4,5,6 1,3,4,5 5 3,4,5 con i funghi 5 1,3,4,5 perfetto creerà 5 porzioni di porridge di riso con funghi la cosa a linus alla nicolus blafunzi quella roba lì cesta cibo questa ce la prendiamo ok 1,2 torce ce l'abbiamo spente naturalmente però abbiamo queste che possiamo utilizzare per accendere quelle che non funzionano che si sono spente perché ci siamo buttati in acqua 1 2 3 4 e 5 sentite come borbotta la pentola ok mi sa che gli manca un altro di questo qui ancora sta fumando l'urna è pronta perfetto questa ci serviva come il pane non so più dove metterla però non c'è più spazio per adesso qui e poi ci trasferiamo lì tutto il cibo perfetto e direi di posizionare questa qui non posso posizionare la terra no taglio e basta va bene volevo posizionarla così ma mi sa che si ce l'ha fatta ok prendiamo questo la pentola è bella pienotta un barattolo c'è qualcosa che non gli piace vabbè vabbè non gli piace allora spostiamo questi qua di là e poi saremo pronti allora vediamo un attimo facciamo così due giorni e questi spostiamo questi sopra così prendiamo questi in questo momento è un anno questo è fresco se lo mettiamo qua e lo mangiamo bene signori io direi che per oggi è tutto è durato tantissimo questo gameplay siamo andati in esplorazione siamo morti e spero vi sia piaciuto eh fatto durare un po' più del solito e se vi va lasciate un like o un commento e come sempre e se vi va iscrivetevi e come sempre siete medici alla prossima bye bye